Il Taranto è intento a preparare la complicata trasferta di Crotone, in ogni caso sul campo di una formazione già certa del secondo posto e con la testa inevitabilmente proiettata ai play-off. Il concetto motivazionale potrebbe rappresentare la chiave di volta del match, ma Capuano dovrà tener conto anche della situazione legata alle defezioni. Non prenderanno parte la trasferta in terra calabrese Manette e Crecco, mentre rimangono da valutare le condizioni di Semprini. Per il resto in campo dovrebbe vedersi un Taranto pressoché simile a quello impiegato nel corso delle ultime partite. La certezza principale riguarda l'assetto offensivo, l'intesa tra Bifulco e Tommasini cresce a dismisura, con il primo pronto a ispirare e il secondo a concretizzare. Dietro nelle gerarchie gli altri centravanti, nessuno dei quali è riuscito finora a dare uno slancionetto in termini realizzativi. Sarà l'ultima partita nella quale varrà il minutaggio, considerando che nei 270 minuti conclusivi della stagione lo stesso non avrà più valore. Le scelte di Capuano, che nel mentre cerca restanti punti per brindare alla salvezza diretta e per sognare i play-off, potrebbero essere influenzate anche da questo fattore. Grazie. Grazie.